Un gioco consigliato da fare all'inizio di un'esperienza e che mette le basi sicuramente alla creazione di un gruppo è l'inversione. L'inversione è un'attività che permette ai partecipanti di comunicare tra di loro e di conoscersi attraverso i propri punti di forza e di debolezza. Si chiede ai partecipanti di dividersi in coppie attraverso il criterio della lontananza, ovvero scegliere la persona che si conosce meno. Si lascia l'ora del tempo per poter parlare, possibilmente passezzando e immersi nella natura e appunto scambiarsi e presentarsi attraverso i propri punti di forza e di debolezza. Una volta terminato il tempo ci si incontra e in plenaria ognuno si presenta come se fosse l'altra persona, provando a dire e descrivere quello che ha percepito nella descrizione dell'altra persona. Questo serve per guardare gli altri e se stessi attraverso un punto di vista differente.